Mi ricordo Robert Johnson, il vero nome è Roberto Johnson, Edu, Sardissimo, Iberchida, vi ricordo i quattro amori Robert Johnson, Muddy Waters, Elmore James e Son House, scrisse questo brano, si riferì a una pietanza messicana, i Tamales, i Tamales, noi da quando frequento Pablo sto rielaborando una mia versione dedicata a Polenteusei, mi ricordo la chitarra, ma Pablo Leoni suonerà questo fantastico strumento, si chiama Washboard, ed è l'alternato della patrice, suonerà l'alternato della patrice, Paul Lyons, vai bene, vai bene. Anche un basto di mani ci sta veramente accogliendo. Il club, ragazzi, il brano più lungo della scaletta sono 16 minuti, mi raccomando, è veramente duro. Il club, ragazzi, è veramente duro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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